Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. È con questo obiettivo che anche le farmacie comunali di Arezzo sono tornate ad ospitare la giornata della raccolta del farmaco. Per molte famiglie è difficoltoso far fronte alle spese che si ritrovano davanti. Sino a lunedì 13 febbraio una mobilitazione solidale volta a portare un contributo concreto alle situazioni di marginalità o di impossibilità ad acquistare medicinali. Si possono donare dei farmaci che verranno devoluti a degli enti assistenziali del territorio che aiuteranno le famiglie più in difficoltà. Nelle otto farmacie comunali di città e frazioni i cittadini potranno così donare un farmaco da banco o medicinale senza obbligo di prescrizione. Il paziente sceglie, il cliente sceglie il prodotto che vuol donare in base anche alle sue capacità economiche. Che poi è il consiglio che noi gli diamo. Naturalmente viene annullato lo scontrino per evitare il codice a barre che la confezione possa essere reinserita in maniera illecita nel canale di vendita e poi il paziente lo mette direttamente in questa postazione che abbiamo preparato qua glielo consegniamo e lo mette qua qua dentro dove naturalmente ci sono questi prodotti con il codice a barre annullato. Quali sono le necessità principali in questo momento? In questo momento c'è diciamo in giro questa forte ondata di influenza quindi farmaci anti-influenzali, antifebbrili, soprattutto sciroppi per la tosse, raffreddori. L'iniziativa, giunta alla sua 23esima edizione, è promossa dal Banco Farmaceutico e nata dalla volontà di contrastare la povertà sanitaria che lo scorso anno ha interessato 390.000 persone sul territorio nazionale un numero destinato ad aumentare nel 2023.